Proviamo a fare un po' di parità di genere, così magari proprio a tutti i maschi, tutti così. Ora, una giovanissima che ha fatto nell'arte la sua cifra, impegnata in tante iniziative, ma noi siamo contenti di premiare per la sua collaborazione al premio 8 milioni, Ilenia Pilato. Ecco qua la foto, sempre la direttrice amicentile si presta per il filtro e per la foto. Nel frattempo, un'initazione di servizio che la giornata sarà di spogliarsi perché della mia tra poco lo prenda, quindi magari facciamo un po' e un po'. Buonasera a tutti, ringrazio Bruno Macini per questa splendida opportunità che mi ha dato. Con molto piacere, fino all'inizio, ho partecipato alle sue iniziative, l'iniziativa appunto di Tila, da Ischi all'Arte. E come dicevamo, appunto, sono diversi anni che io mi occupo di arte, tanto sono artista, collaggista, con l'occasione per comunicare alle persone più presenti che proprio ieri ho inaugurato una mia mostra personale all'atelier delle dolcezze di Piazza degli Eroi. La mostra è denominata Christmas Shades, ovvero sfumature del Natale. Se avete voglia di passare, la mostra sarà aperta fino al 6 gennaio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.